Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le nostre Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Asso Camerestero e con la partecipazione della Banca Popolare di Sondrio, oggi si continua nel percorso di esplorazione, grazie sempre a dei testimoni privilegiati, di paesi nei quali l'internazionalizzazione può ancora rappresentare una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI facendo leva sulla grande attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Argentina. Bene, ricordiamo che l'Italia ha una storia di rapporti con l'Argentina lunga e molto importante. Ci sono delle relazioni amichevoli anche per la storica migrazione italiana verso l'Argentina, avvenuta soprattutto tra il 1870 e il 1960. In questo lasso di tempo oltre 2 milioni di cittadini italiani a causa della povertà nel nostro paese e delle guerre hanno lasciato l'Italia per andare a stabilirsi in Argentina. Gli argentini di origine italiana, totale o parziale, sono oggi contati in circa 25 milioni di persone, quindi pari al 62% della popolazione totale del paese che in qualche modo ha origini italiane. Oggi abbiamo ospite di Ok Italia Parliamo, è un grande piacere di avere nostro ospite per parlare delle opportunità italiane in Argentina, il presidente della Camera di Commercio italiana di Rosario, Giorgio Fittipaldi. Buongiorno e ben arrivato Fittipaldi. Buongiorno a tutti, grazie. Fittipaldi, l'Argentina è la terza maggiore economia della regione latinoamericana dopo il Brasile e il Messico. C'è un PIL che è pari a 432 miliardi di dollari americani. Bene, in Argentina ci sono oltre 44 milioni di abitanti e il 93% di questi vive in zone urbane. Dato molto importante anche l'età media, perché è una popolazione molto giovane, perché l'età media è di 30 anni. Bene, nonostante le recenti tensioni del mercato valutario in Argentina, dobbiamo però evidenziare alcuni aspetti positivi che adesso le vado a ricordare che sono caratteristici dell'economia di questo Paese. C'è un'economia considerevole e diversificata, un'ampia disponibilità di risorse naturali, ci sono professionalità, risorse umane di alta qualità, un solido quadro istituzionale, un buon sviluppo delle infrastrutture e da non sottovalutare un mercato domestico da considerarsi interessante per dimensione e potere d'acquisto. Purtroppo, Fittipaldi, l'economia Covid-19 sta avendo ovviamente impatti anche sulle economie dei singoli Paesi. Il governo di Alberto Fernandez poche settimane fa ha da poco superato l'ennesimo problema finanziario dell'Argentina e ha trovato un accordo con i vari creditori evitando il default per il Paese. Ora però l'Argentina sta vivendo un altro dramma ancora più serio, questa volta un dramma sanitario. È un periodo molto delicato per questo Paese che ha le prese con un continuo, inesorabile aumento dei casi di contagio da Covid-19. Sono quasi 13.000 contagi nelle ultime 24 ore e l'Argentina ha purtroppo superato il milione di casi di coronavirus. Questi sono dati che sono stati resi pubblici dal Ministero della Salute a Buenos Aires. Oggi l'Argentina purtroppo si colloca al quinto Paese al mondo ad aver raggiunto la cifra di un milione di contagiati. Andiamo nello specifico. L'ultimo rapporto Fittipaldi delle autorità sanitarie ha detto che i contagi da Covid-19 da marzo a ieri, sono i dati che io ho rilevato, sono 1.2662 e purtroppo il bilancio totale dei morti è di 26.716. Bene, degna una cosa che mi ha molto colpito, però reputo che sia importante ricordare, perché do il mio personale apprezzamento a una scelta politica che è stata fatta dal governo, di garantire una morte dignitosa e non in solitudine ai malati terminali. Cosa che purtroppo non c'è stata in Italia in cui tante persone sono morte da sole nei letti di ospedali. Da giorni ormai viene garantita in Argentina la possibilità, un componente della famiglia di età tra i 18 e i 60 anni, di essere presente negli ultimi momenti di vita di un congiunto. Questo è un segno di grande civiltà di questo Paese. Fittipaldi, io chiedo a lei, visto che vive quotidianamente questa realtà, qual è la situazione Covid-19 oggi in Argentina e soprattutto mi interessa sapere, oltre all'aspetto sanitario, se si è tutti regolarmente al lavoro o se ci sono delle restrizioni. Ok, ok. Innanzitutto, Massimo, grazie per l'espazio dedicato alla Camera di Commercio del Rosario e per l'opportunità di raccontare la situazione che l'Argentina sta affrontando. da fine di marzo il Paese ha entrato in quarantena, la quarantena più lunga del mondo. Le misure dell'isolamento sociale preventivo e obbligatorio sono state graduate in cinque fasi, a seconda della velocità di contagio in ogni regione. Attualmente sono stati registrati circa di un milione di casi accumulati di Covid-19. A seconda del numero di contagi in ogni area geografica sono state aperte attività commerciali e industriali. Qui a Rosario, oggi ad esempio, è possibile uscire di casa per attività lavorative, gli essersi commerciali sono aperti e così anche i bar e il ristorante con un rigido protocollo sanitario. Perfetto. Molto bene. Allora, le chiedo, Fittipaldi, purtroppo per la pandemia l'attività economica e l'Argentina, come un po' quelle di tutto il mondo, ha subito un significativo rallentamento e l'Argentina oggi sta vivendo una recessione economica piuttosto grave, con un'inflazione che viaggia intorno al 50% di valore annuo e un'instabilità sociale diffuso. Le chiedo in che modo durante l'emergenza, che come ci ha detto va da marzo a oggi senza essersi mai interrotta, perché praticamente siete in una quarantena continua, in che modo il governo argentino ha affrontato l'emergenza e come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? Dall'inizio della pandemia il governo argentino ha attivato diversi strumenti finanziari per le piccole e medie imprese, in particolare prestito con tasso allo 0% per liberi professionisti e microimprese, prestiti a tassi agevolati per le piccole e medie imprese, esgravi fiscali per il pagamento degli oneri sociali e aziendali, copertura parziale del pagamento degli spendi delle imprese più colpiti dalla crisi, blocco della sospensione delle utilities del mancato pagamento, finanziamenti agevolati senza interesse per l'acquisito di beni produttivi. Queste misure restano ancora oggi attive. Oltre a queste misure, il governo hanno attivato strumenti finanziari specifici per le aziende per appoggiare la ripresa dell'attività produttiva e sgravi fiscali sulle relative imposti regionali. Tutti, tutti, questa medida va ad aiutare, va ad influire nell'evoluzione nel futuro dell'economia. Molto bene. Con la grande inflazione. È chiaro. Ecco, Filippi Paldi, le chiedo un'altra cosa. La politica monetaria di Fernandez, soprattutto secondo le affermazioni che Fernandez ha fatto durante la recente campagna elettorale, dovrebbe essere orientata ad un tipo di cambio debole che stimoli l'economia, l'intervento anche della Banca Centrale Argentina, affinché intervenga in maniera attiva per frenare il valore della moneta nazionale ed evitare così cicli di apprezzamento che in passato, purtroppo, hanno in Argentina generato dei deficit commerciali. Quindi un peso debole della moneta grazie ad una maggior immissione monetaria nel sistema che stimolerebbe le esportazioni e dunque la crescita economica. Ecco, io chiedo a lei, Filippi Paldi, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci sono nel fare impresa oggi in Argentina? Quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando? E soprattutto mi interessa sapere quali le opportunità per il nostro Made in Italy. Ok, ok. In generale, la economia del presidente Fernandes per noi oggi è inentendibile. Inentendibile. Non c'è plan, non c'è nulla. Inentendibile. Ora, in condizione normale, la Camera di Commercio Italiana del Rosario assiste alle imprese italiane interessate al mercato argentino e alle imprese argentine interessate al mercato italiano. Inoltre, in questo momento, in questo momento, la nostra Camera è la rappresentante di tutte le Camere italiane italiane dell'area mercosur e può offrire quindi alle aziende italiane un potenziale accesso a diversi mercati latinoamericani. Io sono il presidente dell'area mercosur. La Camera offre la possibilità alle aziende di incontrare la controparte estere a cui presentare la propria proposta commerciale, promuovere e valorizza la eccellenza del territorio italiano e fornisce alle imprese locali la competenza necessaria per operare nel territorio italiano. La Camera, solo per citati principali, eroga servizi tipo informativo, come ad esempio analisi del mercato, dossier informativo sulle normative sulle fiere e manifestazioni che si stanno realizzando virtualmente, servizi di business contact per la ricerca del partner commerciale come importatori, distribuitori, fornitori e servizi specializzati di assistenza e consulenza amministrativa anche legale. Molto bene. Ricordiamo una cosa, Filtipaldi, che la Camera di Commercio italiana di Rosario di cui lei è presidente è nata addirittura nel XIX secolo, anche se poi è stata rifondata ufficialmente nel 1985. I vostri soci appartengono a vari settori e l'obiettivo principale è quello appunto di promuovere e sviluppare opportunità commerciali ed affari tra Argentina e Italia. Filtipaldi, durante questo momento di, chiamiamolo lockdown, di difficoltà nella mobilità anche dei nostri imprenditori per poter raggiungere ovviamente l'Argentina dall'Italia, avete garantito questi servizi come? Utilizzando gli strumenti informatici, webinar o altro? In questo periodo la Camera si è sempre molto impegnata. Dall'inizio del lockdown è rimasta sempre attiva al servizio delle imprese sia italiane sia argentine. Abbiamo realizzato una continua attività informativa ai nostri soci e le aziende italiane e argentine. Inoltre abbiamo fatto delle webinar per il settore gastronomico e turistico durante i quali abbiamo invitato autorità e imprenditori italiani che hanno condiviso esperienze e buone pratici che si possono replicare qui in Argentina. Due cose molto importanti. In collaborazione con la Camera di Commercio Italiano del Centro Sud America abbiamo realizzato due grandi progetti. Un incontro virtuale di networking alla quale hanno partecipato più di cento aziende, soci e di 17 Camere di Commercio italiane dell'America Latina che hanno potuto realizzare. Un incontro virtuale virtuale. E secondo una presentazione del progetto Amazon Italia, iniziativa dedicata alle imprese dell'America Latina che vogliono vendere i proprii prodotti nel mercato italiani e europei. Per ultimo abbiamo realizzato un webinar dedicato alle aziende italiane del settore del settore alimentare e agroindustriale. Nostra specialità, no? Interessate le business opportunities che il mercato argentino offre. Ecco, una cosa molto importante che volevo chiederle. Abbiamo detto in premessa che in Argentina c'è circa il 62% della popolazione che vanta origini italiane. Bene. Giorgio Fittipaldi, quanto è importante, che ruolo, che potenziale di sviluppo ha ancora oggi il Made in Italy, i prodotti Made in Italy nel territorio argentino. La maggiore opportunità di business per il Made in Italy si acconsentrano nelle tecnologie in particolare quelle destinate alla produzione agricola, agroalimentare, packaging, lavorazione del legno e del metallo e ovviamente i relativi ricambi e beni intermedi. Altri settori, di particolare interesse per investimenti commerciali in Argentina sono quelli dell'energia rinnovabile, molto importante, molto importante, dell'automatizzazione industriale, del farmaceutico e del chimico. In questo particolare momento i tradizionali prodotti Made in Italy del settore, della moda e del design sono presenti sul mercato locale, per lo più rivolti ad un pubblico di nicchia. Mentre per il settore alimentare, gli importatori di prodotti alimentari italiani riforniscono i diversi ristoranti italiani del paese. Molto bene. Io ho sempre detto Made in Italy and Made with Italy. Giusto, giusto. Capisco. Assolutamente sì, molto importante. Fittipaldi, io le devo fare un'ultima domanda che reputo che sia molto importante, perché spesso noi abbiamo dei nostri imprenditori, bravissimi nel territorio nazionale, che però pensano di poter andare dovunque e realizzare, replicare il proprio modello di business, modello imprenditoriale. In alcuni casi tornano nel paese d'origine, in Italia, con la coda tra le gambe. Allora io chiedo a lei, forte della sua esperienza, della grande conoscenza del mercato argentino. Fittipaldi, esistono delle regole d'oro che un imprenditore italiano che miri ad avere successo sul mercato argentino deve rispettare per evitare poi delle amare sorprese? Sì, sì, sì. La regola di oro, il primo contatto con noi è fondamentale. Per questo, o le imprese italiane che sono interessate al mercato argentino, noi consigliamo di contrattare le Camere di Commercio Italiano Locali. È importante ricevere informazioni certe e sicure da parte di chi? Come noi conosce perfettamente il territorio e il contesto economico locale. Particolarmente in questo punto, oggi, e quest'ultimo aspetto, avrebbe bisogno di un discorso speciale, l'aspetto economico. Chiaro. E nell'interesse della nostra istituzione consigliare l'azienda italiana ad inserirsi nel mercato locale, trovando nuove opportunità commerciali e fortificando la relazione di assistenza. Molto bene, Presidente. Prego, prego, dica Presidente. E nel fondo, tutti siamo italiani. Perfetto. Tutti siamo italiani. Questa è bellissima. D'altronde, i libri... Tengamo cuidado. Molto bene. Questo è veramente importante, per quello reputo che l'Argentina possa veramente essere ancora un paese da continuare ad esplorare in maniera molto sana da un punto di vista imprenditoriale. Presidente Fittaldi, io la ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio virtuale in Argentina alla conoscenza, ovviamente, di quelle che sono le problematiche legate alla pandemia Covid-19. Quindi abbiamo avuto in diretta dalle sue parole conoscenza e prontezza di quella che è la grave situazione in cui il popolo argentino sta vivendo in questo periodo. Ma ci fa ancora più piacere sapere comunque che il popolo argentino, l'Argentina, le imprese stanno guardando con fiducia verso il futuro e che comunque c'è ancora grande possibilità di fare business, di creare attività imprenditoriali serie in questo paese. Mi conferma che è così? Certo, certo, certo. Io mi disculpo per il povero italiano, però capisco ma non so parlare bene. Ha parlato, Presidente, è stato assolutamente chiarissimo, invece complimenti per il suo italiano. È stato molto chiaro nell'esposizione, ricca di contenuti. La ringrazio ancora per averci accompagnato. Torneremo a contattarci ancora in futuro per sapere gli sviluppi di questa pandemia. Parliamo del tema economico. Parliamo del futuro del tema economico. Assolutamente sì, in una prossima occasione affronteremo esclusivamente il tema economico, vedremo anche se le iniziative messe in campo dal nuovo governo stanno portando i frutti attesi e qual è la condizione di sviluppo per il paese argentino. Allora ringrazio i nostri ascoltatori per averci accompagnato in questa trasmissione. Appuntamento con voi la prossima volta. Presidente Fittipaldi, io la ringrazio ancora, presto incontrarla. Grazie a te e a disposizione. Grazie, una buona giornata. Grazie. Grazie mille.